Una donna dà dell'acqua ad un assetato, incredulo per il generoso gesto della sconosciuta. Alle loro spalle un'anziana sta per offrire ristoro ad un ragazzo di colore stravolto dalla fatica dopo un lungo cammino, mentre un uomo in primo piano porge un unguento ad un giovane affinché le sue ferite smettano di sanguinare. Come gemme d'amore le sette opere di misericordia corporale fanno da corona alla Natività di Cristo, rappresentata quest'anno in Piazza San Pietro dall'arte presepiale napoletana del maestro Antonio Cantone. Sono venti in tutto le figure che animano la scena, disposte su una superficie di circa 80 metri quadri, ognuna realizzata in terracotta policroma. Ad ispirare il lavoro dell'artista che abbiamo incontrato durante l'allestimento dell'opera sono stati i gesti e le parole del pontefice. Ho studiato un po' tutta quella che era la catechesi di Papa Francesco, un po' tutte quelle che sono state le sue affermazioni su che cosa è la misericordia oggi, ai nostri giorni, e rapportandola a quelle che erano le sette opere, poi ho maturato delle mie idee. La Natività, che cosa rappresenta un soprammobile nelle case delle persone? No, è qualcosa di più importante, è un promemoria, un promemoria rispetto a quello che è la famiglia di Nazareth, rispetto a quello che dovrebbero essere tutte le nostre famiglie. Ecco, un ideale verso il quale andare. Io credo che se tutte le famiglie avessero come ideale, come modello la famiglia di Nazareth, la nostra società forse sarebbe un po' migliore. Come le fattezze del maestoso Angelo che sovrasta la scena della Natività sono un chiaro omaggio al genio scultorio Gian Lorenzo Bernini, così anche in alcuni degli episodi dedicati alle sette opere di misericordia è possibile individuare echi di altri artisti italiani. L'opera Seppellire i morti è molto particolare perché è un po' struggente. Io ho voluto fare due riferimenti artistici, ma anche poi collegati sempre alla catechesi di Papa Francesco. C'è il Cristo velato di Giuseppe San Martino, che essendo napoletano ho voluto omaggiare e il braccio è un altro omaggio alla deposizione di Caravaggio. C'è quest'uomo che sta praticamente infilando, come nelle seppelliture romane, in questa sorta di nicchia all'interno delle rocce. Il culto dei morti è diventato un po' desueto, un po' magabro, dà fastidio, perché intimorisce la morte e fa paura. Invece il culto dei morti è estremamente importante perché dietro quell'uomo coperto da un lenzuolo c'è il Cristo, per cui c'è la memoria di che cosa ci ha lasciato, l'insegnamento. Noi con la morte pensiamo di aver cancellato, no, è rimasto, è rimasto il buono. Per cui da una cosa tra virgolette negativa ne nasce una positiva. Ecco, vedere il buono che c'è nella morte, vedere il Cristo che è quell'uomo sotto il lenzuolo. Realizzato in stile settecentesco dono quest'anno dell'Abbazia di Monte Vergine, il presepe riempie il cuore di Piazza San Pietro e dei pellegrini di tutto il mondo, offrendo loro, attraverso l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione, la possibilità di approfondire la lettura dell'opera e di ogni singola scena. Nelle sue vicinanze sono collocati codici QR. Una volta inquadrati con la fotocamera del proprio smartphone collegandosi alla rete locale Wi-Fi chiamata Wiimood, appaiono sullo schermo del dispositivo video esplicativi sulle raffigurazioni delle sette opere di misericordia, scoprendo notizie, curiosità e dettagli di una natività unica nel suo genere.